musica 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 da partire gli anni quaranta l'onomotopea ha assunto sempre un valore sempre più presente nella lingua giapponese Molte di queste nomatopeie addirittura sono trasformate col tempo diventando addirittura anche dei verbi È un modo di dare un nome proprio con un'idea visiva a una cosa È un'operazione di semiotica purissima quella di dare un marchio È come creare una nuova parola, è come inventarsi un neologismo Una roba che non deve esistere in nessun'altra forma Per me è proprio una missione di vita, da un punto di vista artistico quella di definire ogni volta la forma giusta Che non significa azzeccare la posa, il disegno eccetera e basta Ma anche di buttare giù ogni volta l'edificio e ricostruire da zero Da questo punto di vista io mi reputo super punk Cioè mi piace sfasciare tutto tutte le volte, questo senza dubbio Allora per dire, generalmente io lavoro con dei draft che vengono, questi escono fuori dal computer Infatti sono due fogli stampati, attaccati col nastro uno all'altro, non so se si vede bene però sono incerottati Ci metto sopra un foglio da disegno e con il tavolo luminoso, che è questo qua Ok questo si accende Io posso lavorare per sovrapposizione e quindi mi faccio poi la, chiamiamola la bella copia del lavoro Questa roba torna nel computer e la coloro su quella tavoletta che avete visto di là per fare poi l'esecutivo finale E ci sono anche una serie di dettagli, come ad esempio per dire, generalmente sono i cieli per lo più Ecco per dire, questa roba qua Che io faccio poi su carta E composito in queste, ad esempio per dire, in quest'area qui Questo buco qui, no? Ci finisce generalmente un cielo, no? Uno sfondo lontano E questo mi interessa proprio perché mi intriga ovviamente il fatto che per ottenere quel tipo di resa pittorica In digitale dovrei faticare molto di più Mentre invece questi qui sono oggetti fatti con una tecnica molto particolare Che ho studiato dai maestri, diciamo, dell'animazione giapponese Che hanno sviluppato una serie di tecniche rapide Che sono proprio delle procedure Ok? Non si parla neanche di dipingere quasi Tratta proprio di eseguire un pattern molto semplice Di operazioni E arrivare a un cielo del genere ci vogliono un quarto d'ora, venti minuti Mentre invece lavorare in digitale a un tipo di roba del genere con quelli alle dettagli Può portare via molto più tempo La definizione graphic design è una roba che suona tipo Una disciplina che si occupa di risolvere quesiti di comunicazione Che coinvolgono l'utilizzo su uno stesso supporto di immagini, fotografiche, illustrazioni Testo e disegni E non mi sembra una definizione troppo distante da quella del fumetto Ovviamente il fumetto ha anche la sequenza dentro tutta una serie di cose in più Però se prendi una pagina di fumetti effettivamente è un lavoro di graphic design Tutti gli effetti perché c'è il testo che è giusto a posto rispetto alle immagini C'è un utilizzo della tipografia che può essere anche eclatante E l'interazione fra questi elementi avviene all'interno di una griglia Cioè proprio ci sono tanti elementi che sono fortissimi in graphic design Quindi io quando mi occupo di comunicazione non è che faccio proprio un mestiere diversissimo da quello del fumettista in realtà Lo marchio che cos'è? È un modo di indicizzare la realtà È un modo di dire quella cosa lì la riconosco fra mille e ha questo nome È un modo di dare un nome proprio con un'idea visiva a una cosa È un'operazione di semiotica purissima quella di dare un marchio È come creare una nuova parola, è come inventarsi un neologismo Una roba che non deve esistere in nessuna altra forma E che deve avere la possibilità di essere utilizzata come una specie di pensiero rigido Lavorabile a freddo, lo puoi scalare, ingrandire, ruotare, quello che vuoi Però è un oggetto indeformabile, no Marchio? Trovo che la bellezza del fumetto sia quella di riuscire a spiegare delle questioni anche molto complesse Con un tipo di linguaggio estremamente semplice da capire E spesso secondo me si fa molta confusione quando si dice Ah quella cosa è un po' un fumettone come per dire è banale Io trovo che invece il fumetto abbia una grandezza enorme Cioè quella di rendere semplici delle cose complesse Cioè mantenendo la complessità di informazione ma dividendola su più piani Che è quello della sequenza, del disegno, della scrittura, della composizione Dello stile grafico, no? E quindi secondo me un po' per definizione il fumetto Ti mette in un ordine di idee di muoverti utilizzando un tipo di comunicazione bassa Tra virgolette, ok? Se usiamo low in quel senso E se posso aggiungere un altro dettaglio in più su questa roba qui Trovo che sia proprio interessante il fatto che anche brand Assolutamente razionalissimi nel loro modello industriale Penso di Ikea, no? Ikea manuale di istruzioni te lo presenta come una specie di fumetto tecnicamente, no? Google quando presenta un nuovo prodotto ti fa delle slide che hanno una struttura sequenziale e narrativa Molto simile a un fumetto, no? E usano un tipo di illustrazione che spesso e volentieri tende ad essere anche infantile da un punto di vista grafico Eppure sono in grado di tirare fuori, di spiegare all'uomo comune, ok? Delle funzionalità complesse di software che poi ci cambiano la vita Sono iperpervasivi ma che sono tutt'altro che uno sviluppo naturale della mente dell'uomo Secondo me il fumetto contemporaneo ha raggiunto una maturità e una consapevolezza Sul fatto che il linguaggio del fumetto, ad esempio per dire non è il bel disegno, no? O non è un'eccellente scrittura Sono... il fumetto è il frutto di questa commistione, di questa alchimia pazzesca Fra la sequenza, il disegno, no? E la scrittura E tutti e tre insieme questi elementi generano questo... Questo prodotto che non ha niente a che vedere con i romanzi Non ha niente a che vedere con il cinema Non ha niente a che vedere con l'illustrazione, no? Eppure, no? Mette un piede un po' dappertutto Spesso molte parole del giapponese moderno Mi riferisco di più allo slang giovanile, ad esempio Nascono dal fumetto Modi di fare nascono dal fumetto E poi sono preverberati nella vita di tutti i giorni Se si tratta di un volume unico La prima cosa che faccio è leggere il volume integralmente Quindi comunque mi faccio già un'idea di quella che è la storia I personaggi e l'evoluzione Quindi la prima cosa da fare è leggere integralmente il volume O più volumi Poi in un secondo momento passo a quella che è la fase del balloon placing Quindi quello di selezionare le varie vignette Identificarle con una lettera o con un numero Secondo se siano dentro i balloon o fuori dei balloon E poi inizio proprio a lavorare alla traduzione con il computer Quindi creando un file word con le corrispondenze tra pagine e numeri di vignetta Questo è un fumetto particolarmente complesso da tradurre Proprio perché al suo interno sono presenti una serie di riferimenti alla cultura giapponese degli anni Ottanta Quindi alla musica, al cinema, alle pubblicità, alle modelle Ma le difficoltà poi sono state anche date Dalla presenza innanzitutto di varietà linguistiche Quindi dialetti Dialetti, giochi di parole Come funzionano i dialetti in Giappone? Per un lettore giapponese può essere anche difficoltoso leggere alcuni dialetti Nella traduzione infatti mi ero rivolto pure ad amici giapponesi che non conoscevano il dialetto di Kumamoto E non sapevano cosa c'era scritto E tu che hai fatto in quel caso in italiano? Hai messo un dialetto? No, no, assolutamente Hai unificato? Sì, ho unificato perché sembrerebbe quasi assurdo che magari, non lo so Essendo un dialetto del sud facessi parlare un personaggio con un dialetto calabrese O, non lo so, napoletano Ma in bocca a un giapponese suonerebbe stranissimo Quindi la scelta è sempre quella di uniformare comunque l'italiano standard Evitando di utilizzare altri dialetti Le onomatopee giapponesi sono diverse da quelle italiane? Sono completamente diverse Quindi a partire dai suoni fino ad arrivare anche ai versi degli animali Quindi vanno contestualizzate, vanno tutte quante tradotte e rese in italiano Diciamo che noi siamo abituati a dire le onomatopee soprattutto inglesi Che sono un verbo, diciamo Il verbo che significa qualcosa in inglese riporta il suono In giapponese come funziona? In giapponese è diverso perché esistono diverse tipologie di onomatopee Ci sono le onomatopee che possono descrivere semplicemente un suono Quindi una porta che sbatte, un telefono che squilla Come quelle che magari conosciamo noi Però ce ne sono altre che identificano esempio dei sentimenti, delle sensazioni Addirittura ce ne sono altre C'è una famosissima esempio che indica il silenzio Quindi in un fumetto giapponese c'è anche un onomatopea per il silenzio Quindi quando si legge questa scritta sappiamo che in quel momento c'è un silenzio assoluto in quella tavola Quindi il lettore sa che quello è silenzio Quindi che non è un altro suono che potrebbe essere magari, non so, un suono che proviene dall'esterno Un animale ad esempio, un verso di un animale Ma è proprio il silenzio Questa è una onomatopea qualcosa che si è sviluppato nel tempo o da sempre quando esiste il manga era così? No, c'è da... Diciamo che con il manga, quindi con il manga moderno Quindi a partire dagli anni 40 l'onomatopea ha assunto sempre un valore sempre più presente nella lingua giapponese Molte di queste onomatopee addirittura sono trasformate col tempo diventando addirittura anche dei verbi Quindi, non lo so, l'emozione, doki doki Che sarebbe anche il battito del cuore Poi diventa anche un verbo in giapponese Doki doki suru significa emozionarsi E quindi da lì è partito proprio l'onomatopea Hanno coperto una gamma di significati che ad esempio anche nella lingua italiana non ci sono E quindi questo è bello perché proprio dal fumetto poi ne sono nate ancora delle altre Però tipo là vedo che si sceglie di lasciare un onomatopea in giapponese Esatto E la traduziamo sì sotto Anche perché spesso le onomatopea sono utilizzate in senso anche decorativo Perché molte hanno questa funzione decorativa Ounque devono avere anche un impatto nella tavola Quindi adattare l'onomatopea secondo me significerebbe anche alterare la tavola dell'artista Quindi preferiamo lasciarla Una volta si adattava a tutto completamente Anche i riferimenti culturali come dicevo prima in Italia venivano completamente e presentemente cambiate Adesso no, si tende il più possibile a rispettare il lavoro originale dell'autore E quali sono le principali differenze nel tradurre un fumetto e un racconto? Sono abbastanza evidenti le differenze Soprattutto lavorandoci Perché innanzitutto per un fumetto riesco Innanzitutto è la quantità di testo Banalmente parlando è la quantità di testo Anche nel caso della narrativa comunque tendo sempre ovviamente a leggere tutto quanto il testo intero Però forse è l'attenzione Perché hanno delle difficoltà secondo me diverse Sia un testo di narrativa che un fumetto Nel fumetto devi stare tantissimo attento ad esempio agli spazi Quindi devi pensare a che quello che traduci deve entrare esattamente in quel balloon Non devi scriverlo Cioè devi cercare di contenere il numero di battute Cercare di farle entrare all'interno degli spazi Qua abbiamo dovuto necessariamente ad esempio allargare molti degli spazi del balloon Perché lei scriveva su dei balloon stretti e lunghi Il fumetto giapponese nasce per essere letto velocemente Agli inizi infatti quando venivano ideate anche le riviste in Giappone Le riviste venivano spesso lette sulle metropolitane Quindi comunque il tempo di lettura magari doveva essere veloce Da leggere tra una fermata e l'altra Quindi non bisognava neanche impegnarsi troppo nella lettura Una differenza che è noto pesantemente tra i fumetti magari occidentali e quelli giapponesi È proprio questo E anche nella quantità di testo Perché spesso in una singola vignetta di un fumetto occidentale c'è tanto testo Quindi spesso c'è una spiegazione In fumetti giapponesi viene tutto spiegato attraverso i disegni Spesso il cambio di scena all'altra ti spiega tantissime cose Per me come ho detto altre volte Secondo me il fumetto giapponese è più come un fiume Nel senso che tu leggi da una pagina all'altra Quindi è come un fluire Cioè non devi stare attento a vedere uno schema preciso Una tavola che è definita con tagli precisi Cioè anche lì nell'impaginazione è tutto molto diverso È già quello che ti dà i tempi della lettura Qual è il rapporto dei giapponesi con il fumetto? È un rapporto molto stretto direi quasi simbiotico Perché il fumetto fa parte della vita dei giapponesi Noi siamo magari portati a credere che il fumetto sia roba da adolescenti Magari per i ragazzi come ero io da adolescente Era qualcosa che leggevano soltanto i ragazzini, i maschi Poi magari c'era il fumetto un po' più adulto Tipo la Diabolic Però è sempre stato relegato a una determinata fascia d'età In Giappone invece il fumetto viene letto da tutte le fasce d'età Viene letto da uomini, viene letto da donne Quindi abbiamo una diversificazione di generi e di pubblico E di riferimento Quindi dal bambino che va a scuola Quindi il fumetto serve anche a insegnare come si scrive Come si legge Fino ad arrivare anche all'uomo di 60-70 anni Che vuole un fumetto sulla pesca o sul mahjong E quindi ha delle riviste dedicate al fumetto Su queste sue passioni Grazie a tutti Grazie a tutti